Buon pomeriggio a tutti ragazzi e ragazze, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal web. Mr. Strong, la sop amata in Turchia ma finita in mal modo, arriva in Italia con protagonisti Jean Yaman e Ozec Gurel. Vediamo un attimo che cosa succederà nei prossimi mesi. Sperando che Mediaset dia una fine presto alla nostra amatissima sop opera dei Dreamer Leali del Sogno, ha annunciato in queste ultime ore le novità dei palistrati tv. Infatti ha ufficializzato l'acquisto di una serie ambientata proprio a Istanbul che vede come protagonista uno dei volti più amati in questo momento in Italia, Jean Yaman. Il titolo è Mr. Strong e Mediaset non ha ancora annunciato la data in cui andrà in onda ma con molta probabilità la sop verrà trasmessa durante proprio il periodo estivo. È una sop molto fresca e veramente tanto carina, infatti si concentra proprio su due persone che sono Jean Yaman e Ozec Gurel. Questi due giovani sono vicini di casa ma sono molto diversi tra di loro perché lei è benestanti alla ricerca del vero amore e delusa però da innumerevoli ragazzi che si siano presi solo gioco di lei mentre lui è un professore, fa il ristoratore ed è un rubacuori incaldito che non pensa assolutamente a mettere la testa a posto ma prende la vita con leggerezza e tanta semplicità. Lei chiederà aiuto proprio a Zougour, che Jean Yaman si chiamerà così per imparare le arti della conquista ma allo stesso tempo chiederà al compagno di portarla al matrimonio della sorella fingendo sì che sia il suo fidanzato per zittire così tutte le male lingue che vorrebbero vederla presto sposata. Ma tra i due, tra delusioni, gioie e dolori nascerà una tormentata ma bellissima storia d'amore. Voi che cosa ne pensate? L'avete già vista in turco? Commentatelo se vi va. Io vi invito a iscrivervi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro prossimo video. Buon pomeriggio e buona serata da Angela, da Tutto dal Web.